Quella che vedete è la famiglia di Luca e Martina De Fanti, padre, madre e cinque figli. Luca e Martina sono i coordinatori della sezione trentina dell'Associazione Famiglie Numerose che oggi alla Vissa ha organizzato una festa per stare insieme, per non sentirsi mosche bianche in una società dove vince l'egoismo e l'individualismo. Noi la crisi la sentiamo più degli altri nella misura in cui magari si perde il lavoro, perché un genitore di una famiglia numerosa che perde il lavoro sicuramente è una cosa più grave che magari un singolo e cose del genere. Poi per il resto siamo famiglie che comunque si sono abituate ad arrangiarsi, a far quadrare i bilanci ancora prima della crisi. Sul territorio regionale sono 150 le famiglie numerose associate in Trentino, 130 in Alto Adige, veri eroi dei tempi moderni che con 1500 euro al mese sbarcano lunario. Abbiamo rincominciato a tenere un po' i conti e sinceramente andiamo via pari, ma anche alle volte sforiamo il budget familiare, ma proprio per le cose essenziali, perché non ci sono serate al ristorante, non c'è il cinema, non ci sono tanti grilli per la testa. Ma facciamo i conti a una famiglia numerosa tipo, con cinque figli è impossibile per la mamma lavorare e da loro lo stipendio è uno solo, ogni mese entrano 1100 euro più 400 di assegni familiari. Capitolo spese, 350 euro di affitto e spese condominali in casa Etea. Quello che avanza deve bastare per mangiare, vestire i ragazzi, acquistare il corredo della scuola, comprare e mantenere una macchina. Un'automobile rara perché deve avere almeno sette posti. Ristorante, pizza, estetista, ma che? I soldi sono preziosi e anche una multa può falsare il bilancio. Problemi da affrontare con entusiasmo perché sono una vera famiglia e con l'aiuto dell'associazione si possono stipulare convenzioni speciali perché risparmiare si può o meglio si deve.